Salve, oggi vi presenterò i tre giornalisti di Extra Radio, lo faccio con questa diretta tv in streaming da, per non far morire la radio, seguita. Sono tre personaggi particolari, uno si chiama Jose Bucca, spagnolo. L'altro è Tigi, è un extraterrestre. E l'ultimo è un siciliano, Peppo Mafioso. E' un mafioso che fu un giornalista, sì. E' una cosa divertente, per far chesso, per far sì che gli artisti emergenti rispondano con un video alle domande di questi tre giornalisti. Lo dovranno fare solo in venti minuti, perché poi in dieci minuti saranno dedicati a qualche canzone loro che vorranno proporre. Vi auguro a tutti, buon divertimento. Salve da Jose Bucca. La mia domanda è, come nascono e si trovano i tuoi lavori più importanti? Salve, sono Etigi, giornalista e extraterrestre. La mia domanda è, qual è la creatura fisica che tu hai mai più? E come vedi, il tuo scuola? Sognò Peppo Mafioso. Un giornalista seceniano. Salò da tutte quante. E faccio sentire qualcosa. Il tremendo del bottone all'acido. In conclusione vi badisco. Inviateci il vostro video di risposta alle tre domande dei famosi giornalisti, articolato in venti minuti e dieci minuti dedicate alle vostre canzoni o musiche. Le trasmetteremo in tv streaming. Per non far morire la radio, seguitela. Grazie. 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 Grazie.